Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi insieme a voi all'interno di questo video voglio andarvi a spiegare come si elimina, come si cancella un account di Disney Plus. Nel caso qualcuno volesse farlo, poiché la piattaforma di Disney Plus l'ha provata, non gli piace e quindi vuole, per l'appunto, cancellare l'account di Disney Plus. E' molto semplice in realtà. Come prima cosa io vi consiglio non di andare sull'app, non di andare sulla televisione, ma se volete cancellare l'account, il vostro account di Disney Plus, di procedere tutto dal computer. Quindi praticamente tutti noi abbiamo un computer, quindi prendete un computer e collegatevi esattamente alla pagina ufficiale della Privacy Disney. Che qui, adesso vi leggo come si chiama, è privacythewaldisneycompany.com. Quindi questo è l'indirizzo che dovete seguire sul vostro computer. Scrivete questo, entrate e a un certo punto, quando entrate all'interno di questo link, vi sarà richiesto di effettuare, appunto, di mettere le vostre credenziali per entrare e accedere al vostro account. E a quel punto dovete premere sul mio account che trovate in alto a destra. E dopo questo procedimento vi comparirà davanti a una schermata riepilogativa con tutti i dati che avete fornito a Disney in precedenza, quando avete compilato il tutto per creare l'account di Disney Plus. Se voi scorrete in basso, in fondo alla pagina, troverete Elimina Account. Con la relativa spiegazione di cosa comporta per l'appunto eliminare l'account di Disney Plus, poi quello ve lo leggerete tranquillamente voi. E infine, in fondo alla descrizione di tutte queste cose, troverete un link che dovrebbe essere generalmente un link blu, dove c'è scritto Elimina Account. Quindi se siete sicuri della vostra scelta e volete eliminare l'account di Disney Plus, basterà seguire queste semplici, diciamo, procedure. E quindi a quel punto schiacciate Elimina Account e poi leggerete eventuali cose che vederà Disney Plus e a quel punto avete eliminato il vostro account di Disney Plus. E quindi qui finisce, diciamo, questa spiegazione che spero possa essere di aiuto a qualcuno, anche magari qualcuno che ancora non si è abbonato e magari si abbonerà in futuro e vedrà che in realtà non gli piace. Ecco, questo è un video che magari potrebbe essere di aiuto ad alcuni e spero possa aiutare alcuni nel presente o anche nel futuro. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, più che altro un video informativo oggi. E niente, ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao a tutti!